Ciao a tutti, nel video di oggi, il piccolo Leo si diverte saltando sul letto di mamma e papà. Poi, da bravo bambino, decide di rimettere a posto tutti i cuscini. Infine, in serata, si rilassa con mamma Chiara. Vi lascio al video, buona visione. Dopo metti a posto i cuscini? Sì, sì, sì. Ok, hai fatto il saltone? Adesso metti tutto a posto? Ma mi si mette a posto così, scusa. Sto prendendo il cuscino bianco. Va bene, amore. Ok. Hai messo a posto tutto? Sì. Ok, grazie amore. Cosa stai facendo? Sto mettendo a posto. No, non stai mettendo a posto, stai mettendo i cuscini sul mobile. Sì, lo sto mettendo nei modi. Ma non è mettere a posto quello? Leo? Un castigo anche. Ciao papà. Ciao amore. Dopo metto a posto e io faccio un saltone. Fai un saltone? Dove lo fai il saltone? Qua? Sì, dopo metto a posto tutti questi, così. Scandala! Che scandala! Ma perché ti sei vestita da Steven Spielberg oggi? Ogni anno, nel periodo estivo, milioni di persone si riversano nelle spiagge di tutto il mondo. Persone che per vivere quel momento hanno rinunciato a qualcosa. Perché si sa, la vita è fatta di compromessi. Ma nel 2021 siamo ancora disposti a rinunciare a qualcosa? Ne varrà davvero la pena. Siete disposti, che per esempio... A rinunciare a un costumino così bello. È di Yamamai. Raga, tutto pronto? Credo che starto la live un pelino prima, così ci scambiamo quattro chiacchiere insieme e poi giriamo questo video con da Supreme, raga. Siete un bambino di 12 anni. Sono troppo contento. A dopo. Ciao! Ragazzi di Foodspring, grazie mille per avermi mandato la colazione direttamente a casa, così provo anche la nuova crema vegana alla nocciola. Yamam, sarà buonissima di questa colazione. Ecco la colazione, c'è la cheesecake, i pancakes a cui ho aggiunto la crema proteica vegana e ora è il momento di assaggiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti per avermi mandato l'Unterpreneur of the Year Award. Sono molto felice, soprattutto per essere una bambina. Questa ha significato molto a me. E la mia committazione è veramente di dare alla comunità e alle femminibili e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.